Per un giorno Torino è stata la capitale italiana del judo. Con la Coppa Italia disputatasi nel weekend nel magnifico impianto del Parco Ruffini, oltre 600 atleti si sono battuti nelle varie categorie. I vincitori sono stati premiati alla presenza dell'assessore allo sport Renato Montabone, entusiasta e soddisfatto della Kermess, la seconda per importanza nel calendario dopo gli assoluti. La differenza da quest'ultima manifestazione è la mancanza degli atleti tesserati per i gruppi militari. Un'assenza che non sminuisce troppo la validità della Coppa Italia, ma anzi la trasforma in vetrina per tutti i giovani judoca impossibilitati a portare la divisa e quindi di fatto fuori dal mondo del professionismo. Tanti vincitori che non dimenticheranno facilmente il fine settimana torinese. E come ormai capita da un po' di anni, il Piemonte ha fatto vedere il proprio valore nel campo del judo con sette titoli conquistati nella categoria maschile e sei in quella femminile. Quattro le medaglie d'oro portate a casa. A quella di Roberto Maserin del centro ginnastico Torino nei 60 chili si aggiungono le tre della Icama settimo torinese conquistate da Guido Carnebianca e dal duo Chiara Vernillo-Alessia Regis per la categoria femminile. I judoca della palestra settimese hanno dominato rispettivamente i 73, 52 e 57 kg. A fronte dei quattro podi più alti non ci sono da dimenticare i due argento di Sita Fabienne del Budo Cantorino nei 100 chili e della settimese Chiara Ballabio nei 52 chili, arrivata proprio dietro la compagna di team. Completano il quadro altri sette bronzi. Da sottolineare ancora l'ottima prestazione degli atleti piemontesi ed in particolare di quelli dell'Aikyama, i quali hanno permesso alla propria società di classificarsi al primo posto dei team sia maschili che femminili. Terzo posto infine, sempre nella categoria maschile, per il centro ginnastico torinese. Grazie.